Ciao a tutti, lei è Asia e lui è Aaron e benvenuti nel nostro primo video come sapete è uscito il film dei mei contro te il nuovo film ragazzi ma è bellissimo e qui noi siamo subito corsi ad acquistare questo lui dà l'aperto perché eravamo troppo curiosi e oggi lo apriremo insieme allora iniziamo che qua dietro c'è questa cosetta qua e si deve strappare allora, aiuto, mamma mia è molto duro di strappare ok, intanto io vi faccio vedere l'aperto lui intanto vi fa vedere un po' perché lui già l'aveva aperto ecco, ecco qua anch'io ci sono riuscita, questo è l'album vedete ha delle pagine e perché ancora non l'aveste preso vi vogliamo far vedere una cosa molto bella che ha ha questo qua che adesso andremo a strappare che è il cartellone ufficiale del film si può attaccare sotto le pareti dove volete ecco, ci hanno fatto tutte le dicale per prenderlo eccolo qui, questo è l'album come vedete allora, dietro ci stanno questi ci sta, guardate, un sacco di pagine, molto bene e la super particolarità è che poi dopo due settimane troverete questi braccialetti molto belli che rappresentano le scene del film adesso andremo ad attaccare, oggi andremo ad attaccare un po' di figurine insieme ecco qua le nostre figurine ci stanno le mie, ecco qua allora, avviamo la prima le prime, allora wow, sono troppo emozionata ho aspettato tanto per aprirlo volevo aprirlo proprio con voi ok, dentro ogni bustina si trovano tre, quattro, cinque figurine allora, intanto ve lo inizio a far vedere già ho trovato la super glitterata wow, che bello un pezzo che lui prende in braccio di Sofì poi abbiamo per chi ancora non avreste visto il film non voglio svelare niente abbiamo questa che è Pongo, un amico del film poi abbiamo questa che è il clone Sofì madre santa Pimpa, partene abbiamo la nostra Pimpa poi qui madre santa Pimpa sì, abbiamo questa che è un'altra scena del film ed abbiamo l'ultima che è questa qua lei è perfidia Pimpa, te ne puoi andare da davanti, per favore? io invece ho la presentatrice oddio, eccola qua poi ho io intanto vado ad attaccarle ho Pongo che sta facendo le le magie e dopo ho Sofì che sta intrappolata in una gabbia andiamo a pagina 68 poi ho Sofì Cartoon e ho il signore S trasparente eccola qua andiamo ad attaccarla pure io qui appena l'ho attaccata ve la faccio vedere state attenti attaccate guardate qua la prima è quella giù in basso bellissima guardate guarda quanto è bello poi abbiamo io dove me le so perce abbiamo la 23 andiamo a cercare la 23 io intanto attacco per bene la 1 si tu attaccale tu intanto eccola qui ragazzi sempre una guerra per me togliere questa palastichina qua dietro delle figurine una guerra guardate l'attacco e ve la faccio vedere eh io ok perfetto eccola qua ho attaccato perfidia adesso andremo ad attaccare altre questa qua va messa sul cartellone su questo qua ok va attaccata su questo che dietro vivono delle parti dove vanno messa delle figurine e la cioè la cosa potete capirlo che va attaccata qua perché sul come si chiama dammi un aiuto l'album vanno attaccate che ci sono scritte numeretti che invece sul cartellone per chi non lo sapesse chi non ce l'ha vanno attaccate le lettere quindi la lettera E mi è capitata aiuto e appena l'ha attaccata ve l'ha fatto vedere come al solito io pure vi faccio vedere la numero uno la presentatrice eccola qua guardate vedete questo pezzettino qua poi qua ci manca il pezzo solo la figurina che è completa non so se la vedete la presentatrice questa qua io ho le ultime due da attaccare e cioè non ho le ultime poi c'è ancora un altro pacchetto e questo qua è il numero 88 ok metti a fuoco ok sempre un'impresa attaccare queste cosette ecco ce l'ho fatta yeah ma tu dove ti sei messo scusa metti di what is this Aaron 88 andiamo a cercare la numero 88 88 ecco la qui perfetto ve l'attacco e ve la faccio vedere all'istante vedete 80 questa qua quella là che abbiamo fatto vedere eccola e questa qua sotto in basso andiamo a attaccare l'ultima che è madre santa 100 no si 100 aspettate che lo vedo insieme a voi 158 allora andiamo a tagliare prima io c'ho il signore sto trasparente che cos'è 28 io so tutti i numeri bassi no io tutti i numeri alti ok andiamo a 158 100 158 eccola qua 23 24 25 ma 28 non so voi se siete più precisi lo attaccare di Mario ma io così questo è qua la 28 è bellissimo adesso mamma la 28 non c'è adesso la 28 c'è come se tu stai 42 vai avanti non la troverai mai la 28 Aaron se chi non chi non l'avesse capito lui si chiama Aaron 28 devi cercare in ordine 28 non c'è guarda 23 22 25 non c'è oddio eccola la 28 vedi era nascosta sai te ve la faccio vedere è quello mino bianco che ha pure scritto chiaro 28 quindi era un po' nascosta vai attacca è l'ultima no guardate che mancano una no tanto una no il pacchetto mio no il pacchetto mio questo è mio sì questo era il mio è il mio il pacchetto mio vabbè continua dopo lo cerchiamo l'altro pacchetto continua ecco mi si vede la coda stiamo blocchiamo no lo stacca sta giocando con la bandina vai ranno benissimo bravissimo fai vedere guardate è l'ultimo qua no attaccata benissimo dai vai attacca l'ultima no l'ultima ce n'è ancora due devo dire 27 no basta finito la 25 eccola l'altra bustina l'abbiamo trovata la 27 dai ti aiuto ti aiuto sì la 27 quella è la 25 questa è la 25 tanto stanno già qua eccola la 25 faccia la Sofì in versione cartoon eh allora attacchiamo per bene ok possiamo far vedere no no non ho finito aiuto io l'ho attaccata oddio sembra quando l'attacchi attaccate le facce sembra che se l'attaccate bene poi sembra che è da tutta intera è fighissimo fatto vale aspetta l'attaccata benissimo facciamo vedere vedete la faccina vedete come avevo detto è questa qua la figurina ok allora ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao